Andrea Camilleri, La Mossa del Cavallo, dodicesima parte, lunedì 15 ottobre 1877. Signor Bovara, quando il cancelliere io l'abbiamo salutata, lei ha ricambiato dicendo, baciamoli i mani. Perché ci ha risposto in dialetto? Picchi, fino a quando mi trovo in chista situazioni, penserò e parlerò a cussì. Guardi che la cosa, ai fini dell'interrogatorio, dato che tanto io quanto il cancelliere siamo siciliani, non ha nessuna importanza. Questo lo dice Vossia. Va bene, andiamo avanti. Lei ha qualcosa da modificare del racconto fatto al delegato spampinato sul ritrovamento del cadavere? Non sì. Quando che lo ritrovai io, ancora non era cadavere. Stava per diventarlo. Dunque, lei in sostanza conferma il ritrovamento di padre Carnazza sulla trazzera poco dopo il bivio Montelusa vigata. Sì, signori. E come spiega allora che il corpo è stato ritrovato a casa sua? Sì, me lo spiega prima Vossia e Meghio. E guardi, ragioniere, che qui quello che deve dare spiegazioni è lei. Segundo mia, ce lo portarono a casa mia il morto. Lo misero già, perché io la ritrovassi tornando. A cussì mi pigliavano nei lacci. Avendo in matinata dichiarato che Oparrino l'avevo trovato in un posto, non potevo la sirastista tornare in dirigazioni dicendo che invece Oparrino era a me casa. Pigliato di scanto, mi sarei trovato necessitato ad andare ad ammucciarlo io stesso. E a cussì sarebbe stato più facile darmi la colpa dell'omicidio. Ci pare ragionato? Più che ragionato, mi pare romanzesco. Lei avrebbe nemici così intelligenti da inventarsi un piano così fatto. Vossia pensa di no? Gliel'hanno mai contata la storia del molino che prima c'era e dopo non c'era più? Non le pare una bella alzata d'ingegno per farmi cririripazzo? È tutta una pinzata per levarmi di mezzo. A tutto bene l'annegarono, a bendicocci spararono e a mia stanno tendando a farmi morire in carcero o in manicomio. Cambiamo per il momento argomento. Lei conosce la signorina Teresina Cicero dalla quale ha affittato la casa dove abita? Sì signori. Ha avuto con lei una relazione intima? Non sì. Io la signora Cesina l'abitti una volta sola, la domenica è stessa che andai alla casa di vigata. Arrivò nel dopo pranzo in carrozza. C'era magari un picciotteggio, un michilino. Mi portò il cavaggio che mi abbisognava e magari du pare di lenzuola che in casa non ce n'erano. Dopo non la vetti più. E questi lenzuoli erano quelli con ricamate le iniziali di padre Carnazza. Lei mi disse che quelle iniziali erano di suo marito. Infatti le iniziali dei due uomini combaciano. E quando vi siete rivisti? La donna a ogni incontro le portava qualcosa di nuovo? Signor giudice, a mia vostia in castagna non mi ci piglia. Io a quella filmina la vitti solamente una volta. Le altre cose le trovai sul tavolino della camera di mangiare qualche giorno appresso. Anche i due candelabri d'argento? Magari quelli a trovai una sera tornando. Non lo stupì il fatto che quella donna, senza motivo alcuno a sentir lei, le abbia fatto un regalo di tanto valore. Sì, me lo spiai. Ma mi spiegai la cosa. Lei i regali non li faceva a mia, ma alla casa. La voleva fare graziosa, magari per affittarla meglio dopo di mia. Ma a picchi non lo spiate magari a lei. Non è reperibile. Lei ha idea di dove possa essersi nascosta. Io non saccio manco in dove che sta di casa a Montelusa. Che motivo poteva avere la signora Cicero per rendersi irreperibile, se non quello d'essere complice del delitto da lei commesso. Se veramente non si trova, cosa che io saccio ora, ci può essere qualche altra scascione. Me ne dica qualcuna. L'hanno ammazzata, oppure l'hanno fatta scappare sotto minazza di morti. E perché? Signor giudice, se Vossià la poteva interrogare. Quella le contava la verità. E tutto questo strumentio che hanno studiato per fare i micrilli di un assassino non funzionava più. Lei sapeva che la signora Cicero era l'amante di padre Carnazza? Sì, sì. Me lo disse un barberi di Montelusa. Che po' è me cucino. Mi fece l'elenco completo. Di cosa? Degli amanti che la signora Cicero aveva avuto. E lei l'ha conosciuto di persona, padre Carnazza. Mi fu presentato da un collega mentre traversavo un corridoro all'intendenza. Uparrino era venuto più una facenna di tasse. Lo vitti chi già vota e basta. Perché scoppiato in singhiozzi? Quando? Quando, tornando a casa sua al buio, è inciampato nel cadavere. L'arraggia. Si spieghi meglio. Quando che inciampai? Capì di subito in che cosa ero inciampicato. Ero inciampicato in un morto. Ma soprattutto in un cianello, uno sfonnapere, un lacciolo che m'avrebbe fatto morire assufficato. Capì subito che quel corpo era quello del parrino e mi mise a chianceri. Di raggia, di disperazione. Il delegato spampinato ha scritto che lei avrebbe dichiarato d'aver scambiato qualche parola con padre Carnazza prima che morisse. Verue. E che lei alcune parole non le capì, altre invece sì. Verue. Lei ha dichiarato che il moribondo disse, in modo comprensibile, fu moro cugino. Non sì. La cosa non successe a Cussì. Io sintendo dire la parola cuscino. Pensai che volesse un cuscino per la testa. Però non saccio dire se in quel momento parrino riceva cuscino, che avviene a dire cuscino, o cuscino, che avviene a dire cugino. La differenza di pronuncia me la spiegò il signor Lamantia, il vice di Ligato. Io pensai che cuscino fosse cugino, in quanto che sapiva che il signor Moro era cugino del parrino, e conoscevo magari che tra il parrino e il signor Moro c'era una grossa lite per una facenna d'eredità. Sapiva magari che il signor Moro ce l'aveva giurata a pace Carnazza. A Cussì, mentre corriva a cavaggio verso la diligazione, feci due più due facquaccio, e invece non faceva quaccio, come spiegò il vice di Ligato Lamantia. Perché secondo Lamantia due più due non faceva quattro. In primisi mi spiegò che una cosa è dire fu Moro, tutto attaccato, e un'altra è dire fu, puntini puntini, Moro. In secundisi mi fice persuaso che Moro, in dialetto siciliano, prima significa omo scuro di capigli, dopo significa africano, dopo ancora significa voce di verbo, e dopo dopo ancora cognomi. È per scansare il pericolo che una parola venga pigliata appena ausa che io ora parlo solo in dialetto. E perciò lei si è convinto che dicendo Moro il prete intendesse significare sto morendo. In altre parole, conferma o ritratta la sua accusa al signor Moro? Ma quando mai? Confermo. Uparrino disse chiaramente che a spararlo era stato su Cucino Moro. Mi deve acchirire, signor giudice, in tutto chi su tempo passato caincia, non ha io fatto che pensare alle parole del parrino mentre che moriva. E su lamenti ora posso dichiarare che lui fu chiaro e io invece non capì. Tanto è vero che appinsai all'ultimo che mi avesse mannato a fare in culo rispetto parlando di ispirato per chi non lo capivo. E invece non mi mannò a fare in culo. Non la mandò a fare in culo? Non sì. E che le disse allora? Un momento che ci arrivo. Principiamo dal principio. Quando parrino s'aggiunò che io gli stavo al lato, murmuriò una parola che mi sonò allora come spaiatu. A che veniva a significare? Nenti. E quindi pensai che avesse malamente detto sparatu. Ma che bisogno aveva di farimillo sapere quando si vedeva benissimo che era stato sparato? Ma vuole sapere una cosa, signor giudice? O parrino non disse né spaiatu né sparatu. Fece un nome. Ah sì? E quale? Spampinatu. Spampinatu. La mano sul fuoco. Vangelo. Spampinatu. Il delegato. Non lo saccio se è il delegato oppure suo frate Ignazio. Il delegato ha un fratello di nome Ignazio. Sì, signori. E il nome so era magari nella lista. Me lo fece meccucino il barberi. Quale lista? Quella degli amanti della signora Cicero. S'informasse. Secondo lei dunque il prete avrebbe fatto i nomi di Spampinatu e di Moro. Di Spampinatu, di Moro e di... Vada avanti. Perché si è fermato? Picchiora bene un botto grosso. Una bomba. Una gallunata. O parrino. Fici un terzo nomo. Non mi mandò a fare in culo. Faccia questo nome. Fasulo. No fanculo. Su via. Non scherziamo. Non sto babbianno, signor giudice. Ci ho ragionato sopra dopo che il signor Lamantia mi ebbe spiegato come funziona un orso dialetto. Chiarissimamente Pace Carnazza disse Ulo. Cognome. E se avesse voluto dire Culu avrebbe detto Ulu. È semplici. Si rende conto di quello che dice. Lei vuole alludere all'avvocato Fasulo. Io non alludo. Riferisco. E a pensare il Cibonu. Non è una pazzia che il parrino facesse questo nome. Ha bisogno a calcolare che magari lui è nella lista. Quale lista? Sempre quella degli amanti della signora Cicero che le fornì suo cugino il barbiere. Sì, signori. In quella lista c'è l'avvocato. Si informasse. S'appattarono. Si spieghi meglio. Si misero d'accordo. Spampinato e Fasulo per ammazzare il parrino che gli aveva livata la fimmina e le aveva fatti con noti. Anche il signor Moro era nella lista. Moro non c'era. Ma aveva centomila ragioni per sparare al parrino. S'accodò. Ficero. Una specie di consorzio. Senta, Bovara. Mi pare di ricordare che lei ha dichiarato al delegato spampinato d'aver visto una sola persona che si allontanava a cavallo dal luogo del delitto. Chissù non venne a diri nenti. A sparare sarà stato solamente uno. Magari se lo sono giocato a paro e sparo chi doveva ammazzarlo. Ma il parrino aveva capito tutto e lo disse. Lei non ha riconosciuto l'uomo che scappava. Non si, signor giudice. Era di Spaggi. È già lontano. Quindi lei sostiene che spampinato. Moro e l'avvocato Fasulo fecero un patto scellerato per uccidere Don Carnazza. Eh, precisamente. Però. Continui. Però. Continuando a passarmi la mano sopra la coscienza. Ebbene. Lo sapi com'è che succede, signor giudice? Ch'a uno parla e riparla sempre dell'istissa cosa e chi ne parla e chi la cosa si acclarisce dentro di lui. A mia sta capitano a cussì. Forse il signor Lamantia aveva ragione. Quando parrino disse moro, voleva solamente significare stai umorendo. Sì, signori. Quindi lei restringerebbe il campo ai soli spampinato e fasulo. Proprio a cussì. Purtroppo lei non ha testimoni. Supra a chido cammerissimo parrino. Testimonio è Dio. Ma Dio non può presentarsi in tribunale. E non ci sono nemmeno testimoni sul fatto che il cadavere sia stato trasportato dal posto dove lei dice ad averlo trovato a casa sua. Non sì. Testimoni in carne e ossa non ce ne sono. Lo vede? Però si potrebbe dimostrare lo stesso che a chi sto trasporto ci fu. Ah sì? E come? La mia mantella. Sia più chiaro. Ora vegno e mi spiego. Il delegato la riferì nel suo rapporto che io uccidissi che mi ero livato la mantella per cumigliare un corpo ruparrino. Sì, questo l'ha scritto. Benissimo. Quando tornai alla casa e inciampai nel morto, la mantia e spampinato aggiumarono i lumi. E io, pur essendo sciammato e pigliato dai turchi, vitti che la mia mantella era sopra una seggia. E lì è restata. Se qualichiduno non è tornato dopo di noi alla casa e l'ha levata di mezzo. D'accordo, ma che importanza ha questa mantella? Se è vero che io con questa mantella ci cumiglia il corpo del parrino, la fodera della mantella, che di colori grigio chiaro chiaro, si deve essere per forza allordata di sangue. Se invece le cose sono andate come sostiene il delegato, e cioè che io l'ho ammazzato a casa mia, perché l'interno della memantella, l'interno, badasse bene, perché dovrebbe essersi allordato di sangue? È proprio all'altizza della ferita del parrino. Provvederò immediatamente. Questo primo interrogatorio finisce qua. Come a desideravo sia. Ah, un'ultima cosa. Quando lei rientrò in casa, quella sera, la porta era chiusa a chiave? Non la ricordo. Mi pare che fosse chiusa e che l'aprì io, ma non ha importanza. Perché? Picchia al lato alla porta, c'è una finestra che io tengo quasi sempre aperta. Quella sera era aperta o chiusa? Non la ricordo. Lei capisce, signor Bovara, fece il giudice susendosi, che dovrò interlocarla di nuovo. Lei, in pallomeni, mi vada a chiamare il delegato. Il cancelliere inisci, ma ci mise tempo a sa prima che tornasse con Spampinato, il quale era giarno di faccia che pareva un pipirone ed era tanticchia sudatizio. Dette un'occhiata carica di raggia a Giovanni, e questi capì che il cancelliere aveva contato al delegato quello che lui aveva detto al giudice. In matinata stissa, di questo ne era certo, gli avversari sarebbero stati informati della sua mossa. Toccava a lui e aveva giocato di cavaggio. Ora bisognava aspettare quale pezzo avrebbero giocato gli altri. Dovette fare uno sforzo per non far spalluccicare dagli occhi la sua contintizza. La chiave dell'abitazione del signor Bovara è in suo possesso? Sì, signore. La vada a prendere. Il delegato nisci e tornò con in mano la chiave. La pruì al giudice. Dopo l'arresto del signor Bovara siete tornati in casa sua? No, non ci è andato nessuno. Cancelliere, cominci a leggere il verbale al signor Bovara, lei, delegato, venga con me. Niscirono nel corridoio. Il giudice parlò a voce vascia. Voglio che il Bovara sia immediatamente tradotto nel carcere di San Vito. Il sudorizzo del delegato s'accentuò. Posso sapere per chi? Certo che lo può sapere. Per ragioni di sicurezza. Non è sicuro qua in delegazione? No, non lo è. Spampinato si chiantò con ventotto. Non se la sentì di fare altre domande. Aveva pensato di travaghiarsi a opera d'arte quel grandissimo cornuto di ragioniere appena che il giudice girava le spalle e fargli pagare d'avere messo di mezzo suo frate Ignazio e l'avvocato Fasulo, scagionando quasi addomme Memoro, secondo quanto gli aveva murmuriato di prece al cancelleri, che era un suo lontano parente. Vada subito dal direttore e gli dica che dietro mio ordine, che confermerò per iscritto, il Bovara va messo in cella da solo. Non cella di isolamento sia chiaro, ma desidero che con lui non ci sia nessun altro. Lo so che San Vito scoppia, ma non so che farci. Vada. Aspetti. Desidero dirle che dell'incolumità del Bovara lei sarà responsabile fino a quando non varcherà la soglia del carcere. Da quel momento in poi ne farò carico al signor direttore. Buongiorno. Spampinato restò paralizzato. Le gambe gli si rifutavano di mettersi in movimento. Tutto questo veniva a significare che il giudice si era quasi fatto persuaso delle minchiate di quel pazzo. Ma a picchia aveva fatto il nome dell'avvocato fasulo, che forse la cosa era più grossa e a lui gli avevano contato solo la mezza messa. Finalmente arrinisce a camminare. Quando la lettura del verbale finì, Giovanni lo firmò. Venne riaccompagnato in camera di sicurezza dall'amantia. Gentilissimo. Quasi ossequioso. Impallomeni. Si faccia spiegare dov'è esattamente la casa del Bovara. Mentre il giudice acchianava in carrozza, il cancelleri disse all'ognuri. Accompagnate il signor giudice a vigata. Dunque, dopo il ponte. No, Impallomeni. Lei viene con me. Gli darà le spiegazioni strada facendo. Il cancellieri d'intra di lui santiò tutti i santi possibili. Il delegato gli aveva raccomandato di spiegare il cimedio alla faccenda prima possibile. Pacienza. Ma che babbiamo, fece arraggiato il direttore del carcero di San Vito. Il signor giudice Pintacuda non lo sa come siamo combinati. Non lo sa che in una cella per quattro ci stanno invece nove pissone. Che crede che siamo al grande hotel? Direttore, ognuno c'ha i guai so, replicò Cupo spampinato. Non lo posso tenere in una cella graziosa pulita dove ci stanno il cavaliere pulvirenti, il suo socio Inghirò e il terzo socio Cardillo. Sono d'intra per truffa aggravata, ma è gente per bene. Direttore, io ci rissi quello che vuole il giudice. Per il resto è sua responsabilità. Io la saluto. Va bene, mi consegni questo bovara. Spampinato niscì dall'ufficio del direttore. Ricciasi spingendo avanti Giovanni, ci levò le manette, salutò, se ne andò. Giovanni si sentiva tranquillo e sireno. Nel breve viaggio in carrozza dalla delegazione al carcero, spampinato non l'aveva mai tagliato negli occhi, non gli aveva rivolto parola. Solo al momento di scimmili dalla carrozza, oramadi intracortile di San Vito, l'aveva ammuttato forte. Sotto la spinta Giovanni era caduto a faccia a Bocconi. Una guardia l'aveva aiutato a susirisi. Capoguardia, fece ad alta voce il direttore. Si appresentò al capoguardia. Era piuttosto picciotto, aveva la divisa pulita. Questo è il signor bovara, un carzarato di molto rispetto, a quanto si degna di farci sapere il signor giudice pintacuda. Vuole che stia in una cella da solo. Mi spiega come minchia facciamo? Il capoguardia ci pinzò tanticchia. Forse una soluzione c'è, ma bisogna una mezzorata. Intanto io potrei tenerlo nel corpo di guardia. Fate come crediti, Meghio. Venimi appresso. Giovanni lo seguì. Principiarono a camminare lungo un corridoio diserto. Dopo qualche passo, il capoguardia rallentò e venne a trovarsi affiancato a Giovanni, il quale sentì una specie di sussurrio che in prima non capì da dove veniva. Tutti in semmula si persuase che a parlare era il capoguardia. Manco cataminava le labbra, una persona distante un metro non l'avrebbe sentito. Vossia, è l'istissu bovara che rispettò ricapo ai molini. Sì. Aveva cercato di parlare come l'altro, ma mancando l'abitudine, quell'unica sillaba gli parse sparata come una fucilata. Il capoguardia fece in silenzio qualche altro passo, dopo riattaccò. Ave bisogno di qualche cosa? Carta, matita, sicarri. Non hai un moneta, non posso pagare il favore. Non ho parlato di moneta, disse l'altro. Vossia lo tenesse a mente, se avevi di bisogno chiama il capoguardia. Eh, grazie, fece Giovanni intronato. Gli stavano tirando un altro laccio. In quale nuovo ciannello lo volevano fare i cadiri? Oramà erano davanti alla porta del corpo di guardia. Mi chiamo Caminiti, fece il capoguardia. Mio pace ha sempre detto che Vossia è un galantomo.